Salve a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Prima di partire col video vi ricordo che venerdì, sabato e domenica sarò presente al Pescala Show Tutti i tre giorni, praticamente tutto il tempo, mi potrete trovare sullo stand Seika Tubertini Così possiamo fare due chiacchiere, più facile mi trovate Così avete anche l'occasione di vedere i nuovi prodotti Seika che sono uscite novità per praticamente tutti i tipi di pesca Dalla trota alla spigola e al serra Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Superiamo i 150 like perché settimana prossima uscirà video 1 di Bilancino Che è stata una finale pazzesca, combattutissima Quindi vi consiglio di prepararvi, chiamare tutti i parenti, cugini, tutti Il nonno vecchio che pesca perché è stata tanta roba E dei bei pesciotti Voi non sapete cosa vi aspetta Ecco, dico solo questo Tornando al video Ok, domenica Ultimo giorno di gara Bolsena Diciamo, il sabato è stato così così Ho capito dove trovare il pesce alla fine Però C'è stata tanta pressione di pesca Quindi Oggi voglio provare a fare qualcosa di diverso Perché comunque anche io ho battuto gli spot Il pesce è un po' più girato Quindi ho puntato su una diversa strategia rispetto a ieri Ho puntato per andare su un posto che non avevo mai provato Che non avevo mai visto Però Teoria è buono Funziona Quindi Proviamo a rischiarla un po' Perché se no la vedo dura Comunque Fare una bella quota Quindi non perdo altro tempo E vi lascio con il video Allora, I need you a little bit You ready for this? Yep Everybody okay? Yep Five Four Three Two Allora Porca di quella Citando qualcuno Cioè Allora Calma No Non so Calma L'antisportività Dei concorrenti esteri È impressionante Sia ieri Nel video scorso Ve l'ho tagliato Perché Non si capiva Però Prima della partenza Da dietro Mi hanno spinto Fuori dalla linea In modo che mi dovesse riallineare Però non me hanno lasciato spazio dietro Quindi Ho dovuto fare il giro E rimettermi in coda Quest'oggi Quest'oggi C'è E allora ditelo C'è Siete fortunati Io non sono col mio kayak Che porco cane Vi trapano i kayak Cazzo C'è Impressionante L'antisportività Dei concorrenti Stranieri C'è Ne ho fatte Di gare in kayak Comunque Mai Mai vista una cosa del genere Mai Adesso gli do una botta anch'io Io volo Guarda che onda Guarda Borguti Guarda 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 Ma è piccola Ah ma figa Ecco perché Pianne Ma cazzo Mai cazzo Se mi do tutte quelle mangiate E non veniva su niente Era minuscolo Oddio Non è grande come l'esca Ho preso un bus che era grande come il jerk Stavo le tocche Dico Perché cazzo Non lo becco Era microscopico Pesce Lo perso era piccolino è piccolo anche per quello grazie per aver guardato il video ho preso il mio piccolo buono, buono, questo è l'Italia qui si fa dal peso, sa che il dita va via no, arriva 24 palle a presto a presto a presto Grazie a tutti. Ho preso, bello. Questa è l'Italia. Ok, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Siamo in game. Questa è 25, sì. Questa è un 26 circa. Siamo in game. No, no. Ciao. Finalmente. Finalmente. Tra l'altro, bellissimo. Perché ho trovato sto spot per caso. Perché stavo girando. Vedo, marcatura. Marcatura. Ho seguito una linea di marcatura. Ho guardato un po' sul side. Ho detto, proviamo, proviamo. Pum. Perfetto. Perfetto. E finalmente. Pesce a misura. Adesso continuiamo. Dobbiamo fare quota. Ok, adesso rifacciamolo. Allora, già con un 28, ho fatto un po' di posizione. Faccio un altro pesce. Vorrei riuscire a ritornare ai 30. Adesso lo vediamo. Chi è? Questo spot mi piace. Ho seguito un bel pesce. Pum. Era grande questo. Se era grande questo. Appena calato. Questo era un bel pesce. Non dovevo perdere un'occasione. Non so. Sarà che non pesco e basta tanto? Sarà che ero fermo da 4 mesi? Dalla pesca. Però, se mangiate che prendono e portano via, oh, le ho sbagliate tutte sto weekend. Non capisco. Ho provato a aspettare di più, a aspettare di meno. Non ho trovato la quadra. Devo tornare un po' più a basso. Ah, comunque ragazzi, un like e un commentino di supporto, mi raccomando. Ci conto. Ciao. 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 bello 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 ok e andiamo grazie ciao bello no, io sono usciti due ventotto burca ce l'ho bello non così bello basta, è 6,25 mi va bene se no no ok non è 25 boh 34 3,6,9,12 30 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 40 30 30 30 30 30 30 30 preso minchia subito non ho neanche visto bello sto pesce bello 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 mi serve assolutamente questo è un bel 30 e passa questo scadiamo un bel po grazie bello stavolta proprio dico boh andiamo la dovrebbe essere buono guardo sotto non vedo niente tanto callo proviamo un po ma pesce peccato che non sono arrivati a lui era l'unico probabilmente gli altri sono già stati presi portati chissà dove secondo che scarrocci e quello si è trovato sulla rla ma i miei amici dove sono bella marra come è anche io come è io ho appena fatto il terzo 32 228 32 oh ma mirko era in top 10 prima mirko adesso è quattordicesimo ho preso bello bello forse piccolino o forse giusto giusto dada stai bravo stai per far tutto te il quarto di un centimetro mannaggia mi sta venendo incontro porca madonna perché si slamano buono potrebbe essere buono oddio sembra più piccolo più buono smollato dall'erba si è attaccato lui infatti ho detto perché viene in qua ho perso tutto preso non so no figa cazzo possibile non è piccolo è microscopico salta si slama più contento buono 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 in teoria tira questo è buono questo è buono questo è buono guadagniamo o quanto cazzo tira è piccolo ma cioè nel senso non è un 30 lo tira come un 30 buono quota fatta e mo si ragiona adesso è buono forse è buono è buono sì mi sa però bisogna vedere se è lungo è buono iniziano 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 ovunque iniziano god iniziano ok dopo tutta sta fiera del minibus finalmente è finita la gara mi sono divertito a prenderli però ma un po' di sofferenza per via di non riuscire a trovare dei pesci di taglio vai là piccolo è pieno impestato dunque ragazzi vi ringrazio per la visione di questo video vi rimando al video di prossima settimana arriveranno grandi cose fidatevi non mi resta che dirvi buona pesca e ciao a tutti iscriviti al canale